Buonasera a tutti, se prendiamo posto si può iniziare questa importante serata dedicata a Gianni Brera. Allora, mentre i relatori prendono posto, io mi presento e vi porgo i saluti. Sì, sono Antonella Campagna, sono la responsabile delle attività culturali didattiche della Biblioteca Universitaria di Pavia. Benvenuti, benvenuti in biblioteca, benvenuti nel Salone Teresiano, che è la nostra sala storica, diciamo 1778, Giuseppe Piermarini, giusto per dare due coordinate. E io vi porgo i saluti anche da parte della nostra direttrice, Marzia Pontone, che non ha potuto esserci, da tutti i miei colleghi. Dunque, questa sera siamo qui con un parterre, come vedete, veramente importante per parlare appunto di Gianni Brera. Di parlarne in una maniera un po' diversa, con ricordi degli amici, con testimonianze, con aneddoti, in una maniera che penso gli sarebbe piaciuta. L'evento rientra in un calendario di iniziative raccolte sotto il titolo L'Ombra Possente di Gianni Brera, diciamo organizzate dal Comitato Brera 100, preseduto da Renata Crotti, dell'Università di Pavia, dove Brera si è laureato in Scienze Politiche, dall'Associazione Laureati, che lo annovera tra i laureati illustri, dal Comune di San Zenone, che gli ha dato i Natali, dalla Proloco di Spessapò, nei cui locali brerera di casa, e dove si è svolta, anche quest'anno, la classica paciada breriana. E da un gruppo di giornalisti amici, coordinati da Paolo Ghisoni, giornalista di Sky Sport. Per quanto riguarda gli altri relatori, li presenteremo man mano, perché altrimenti passo tutta la giornata qui. Io vi ringrazio di essere intervenuti e chiamerei immediatamente Gianpaolo Azzoni, prorettore vicario dell'Università di Pavia, per il saluto istituzionale. Grazie. Grazie. Grazie, buonasera a tutti. Sono molto lieto, seppur in modo ovviamente liminare, ma in questo caso anche interstiziale, perché purtroppo c'è in corso l'Unione Senato accademico e quindi devo presentare una cosa e quindi purtroppo devo lasciare. Però sono molto contento di portare il compiacimento dell'Ateneo per questo evento. Come sappiamo tutti, infatti, il 19 dicembre del 1992, esattamente 30 anni fa, quindi un merito anche agli organizzatori per questa perfetta sincronia, scomparve appunto Gianni Brera in un incidente automobilistico. Quindi a maggior ragione è significativo il titolo di questo evento, nel giorno che ricorda la sua scomparsa, il titolo Brera Immortale. Quindi grazie pertanto di cuore a tutti coloro che hanno organizzato questo evento, il comitato Brera 100 presieduto da la professoressa Renata Crotti, che porta agli eventi la sua solita sempre energia e il suo solito entusiasmo, quindi grazie, grazie all'Associazione Laureate dell'Università e Pavia, perché effettivamente Gianni Brera si laureava qui, come si è ricordato, come si è ricordato nel 1943, grazie al Comune di San Zenone, grazie per la Provoca di Spessapò, grazie a tutte le persone così autorevoli che sono qui presenti e che danno, secondo me, in senso proprio, significato in senso proprio appunto alla parola commemorazione, dove in qualche modo possiamo ricordare che questa parola commemorazione, vederla effettivamente come è composta da commemorare, quindi in qualche modo un ricordare con, un ricordare con la persona che viene ricordata, ma ricordare anche insieme ad altri, quindi veramente un ricordare con. Ecco, quindi una commemorazione, un ricordo comune, un ricordo con, ricordo con la persona ricordata, ma essenzialmente con chi lo ricorda e sono persone molto autorevoli che le hanno conosciuto. In Coda mi si è permesso di iniziare questa commemorazione, ricordo con, dicendo che risale proprio a un libro di Gianni Brera, il mio primo incontro con quella che in qualche modo ho ritenuto essere letteratura. Ero in quinta, sì, prima media al massimo, e mi ricordo che mio padre, che era un grande ammiratore di Gianni Brera, mi ricordò un libro che Gianni Brera fece per i ragazzi, che si chiamava Il mestiere del calciatore, 1972, una copertina che è anche intere parti che saprei ancora fisicamente descrivere, non so se vi ricordate, quella con la copertina verde, ecco, più o meno. Il mestiere del calciatore è stato effettivamente un libro che mi ha accompagnato per lungo tempo, anche perché effettivamente anche in quel libro che era pensato per ragazzi, emergeva però tutta la sua fantasia linguistica, e quindi anche la sua grande difficoltà. Devo dire un libro che trovai asperrimo, ecco, una stessa difficoltà che ebbi molti anni dopo quando provai a leggere l'Ulisse di Joyce, però Mutatis Mupandis era quella la difficoltà. Quindi con questa rutilanza di termini, con queste costruzioni fintattiche così fantasiose, ma si capiva veramente la differenza da lui e molti altri, e per cui la ragione per cui qua, in questa sede bellissima, lo ricordiamo oggi con queste persone così autorevoli. Quindi grazie di cuore per questo incontro. Grazie anche da parte mia per essere qui. Io volevo iniziare dicendo che c'è qualcosa di strano sotto questo cielo di dicembre, perché negli ultimi giorni abbiamo dovuto salutare chi ha fatto calcio e chi calcio lo ha raccontato. E voi direte perché adesso ci dice questa cosa che non c'entra nulla. Perché non è vero che non c'entra nulla? Perché quello che stiamo per ricordare qui questa sera assume ancora più spessore. Nel senso che nulla deve essere dimenticato. E io credo che una raccolta di ricordi così diversi e così personali, tutti assieme, mai ci sia stata. Quindi quello che ne verrà fuori sarà davvero una grande ricchezza. Io inizierei con il chiamare per l'Università di Pavia Renata Crotti, che è anche la Presidente del Comitato Breracento. Prego Renata. Grazie. La mia distrazione era dovuta al prorettore, qui bisogna sempre dire di sì, ovviamente. Buonasera a tutti. Anche per me è davvero un grande piacere, un grande onore essere qui questa sera. Devo ringraziare, e se lui dirà che insomma non è il caso, Paolo Ghisoni, perché è lui che ha proposto insieme ad Angelo Stella, a me, di partecipare all'organizzazione di questo splendido momento. Io sono Presidente del Comitato Breracento, lo abbiamo già innumerato i partecipanti, ma sono qui per dire velocissimamente due cose, il rapporto di Brera con l'Università e il rapporto di Brera con il territorio. Mi piace dire che Brera definisce il suo laureato all'Università così. Sì, sono sbucato dottore in strano, cioè sono sbucato, sono diventato dottore affacciandomi alla strada nuova, che appunto è la strada che sta sotto le nostre finestre. Un rapporto con l'Università, rubo poco tempo, però lo voglio dire, che si sostanzia anche in un racconto molto bello della storia della nostra Università, dei fatti che ha avuto, e in particolare ci racconta di Maria Teresa con una scrittura semplice, facile, sembra che Maria Teresa sia qui accanto a noi a partecipare appunto ai nostri eventi, quando dice in poche parole che Maria Teresa ha dimostrato da subito chi era e quello che sapeva fare. Maria Teresa vive nella seconda metà del Settecento, a lei dobbiamo anche questa splendida struttura, insomma il riconoscimento del valore di una donna a quel tempo, cioè ha riferito a quel tempo, però è davvero significativo. E racconta che Maria Teresa, dico racconta proprio il verbo che rende bene, che Maria Teresa aveva intuito che l'Università aveva bisogno appunto di rinnovamento e lo ha fatto chiamando migliori architetti del tempo, rendendosi conto però che le strutture non sono sufficienti, ma bisogna appunto chiamare docenti degni e pagarli con stipendi adeguati, quindi insomma è un bel messaggio di grande valore. La seconda cosa che voglio dire è il rapporto di Brera con il territorio e mi piace dire che soprattutto, scusate, ma pensavo di essere, ecco grazie, ma no ma ho già finito, è un territorio che per lui è soprattutto l'Oltrepò e ha scritto di questo Oltrepò frasi e insomma commenti splendidi e a me piace finire con questo messaggio, guardo ogni volta commosso le colline pavesi che sono il mio dolce orizzonte di Pampini, colline pavesi descritte con maestria da cui trasuda tutto il sentimento di amore che appunto Brera viveva per il suo territorio. Poi devo fare una nota di ordine istituzionale. No, scusatemi, adesso ho bisogno gli occhiali. Devo portare il saluto istituzionale dell'assessore alla cultura di regione Lombardia professor Stefano Bruno Galli e mi rincresce, sono davvero sinceramente dispiaciuto partecipare al vostro bellissimo amaggio al grande Gianni Brera solo per il tramite di questo breve messaggio scritto. Tuttavia sono impegnato in consiglio regionale dove si sta svolgendo l'ultima sessione di bilancio della legislatura. Proprio ieri pomeriggio mi trovavo con un gruppo di amici a San Zenone Po per ricordare insieme un grande Lombardo che era assai più di un giornalista sportivo perdutamente innamorato della sua Lombardia. Mi si è consentito di rivolgere un saluto a tutti i presenti, saluto in particolare coloro che animeranno questo confronto di idee dedicato a un gigante del giornalismo italiano, il lombardissimo Gioan Brera Fucarlo. Come noto l'accusione data dalla ricorrenza del trentennale della morte avvenuta nella notte del 19 dicembre 1992 per una terribile fatalità. Rivolgo un caloroso saluto all'amico Claudio Rinaldi, abile, stimato e capace direttore della Gazzetta di Parma con il quale ho il piacere di collaborare in diverse iniziative che ho voluto realizzare per ricordare Brera in tutto il suo sconfinato e geniale, colto e popolare lombardismo. Normandismo padano della bassa. Brera ha descritto il pluralismo identitario e culturale della nostra Lombardia. Ogni territorio ha la sua storia, bisogna studiarla e raccontarla. Brera la raccontava in modo un po' tutto suo, con qualche svarione storico anche, ma si faceva leggere tra neologismi, latinismi e lombardismi. Per Brera la Lombardia esprimeva un vero e proprio modello di civiltà caratterizzato da un pluralismo territoriale. Schierandosi dalla parte della cultura popolare, cercando di valorizzarne la lingua, ci ha raccontato una terra vivissima. Gli ho reso omaggio oggi sulla Gazzetta di Parma e nel congedarmi da voi non posso che augurarvi un bellissimo pomeriggio di lavori di questo convegno e sono d'accordo con il vostro titolo dedicato all'importante Gianni Brera. Grazie e auguri a tutti di buone feste. Grazie. Finito. Grazie. Allora, presigenze di diretta mi sposto anche di qua, scusate se vi passo davanti, ma dobbiamo farlo. Allora, so che tanti di voi hanno portato fotografie, libri, testimonianze e anche scritte. Allora io vorrei proseguire con Angelo Stella per l'Università di Pavia, che è anche e soprattutto amico di Gianni Brera. Va, va, funziona. Grazie. Renata Cotti ha ricordato Brera a Pavia. Lui è tornato a Pavia, che io sappia, una volta sola e mi ha detto voglio tornare a Pavia quando è buio. Allora io l'ho accompagnato dal rettore Roberto Smith. Lui con Roberto Smith ha detto, mi rincresce, che nell'antologia che hanno fatto del giornale goliardico, con un titolo, diciamo, censurabile, ma il titolo è questo, il torchio addominale, hanno pubblicato di me la poesia che io ho dedicato a Benito Mussolini. Mi hanno dato 50 lire, che per me, che ero povero, ecco questo è un concetto che ha sempre percorso la sua vita. Anche in un articolo che lui ha scritto su Popo di Pavia nel febbraio del 44, ha detto proprio con lo spirito dei poveri io voglio parlare. Quindi Brera è tornato a Pavia e lui aveva una ferita con Pavia, una ferita che mi permetto di ricordare. Volevo scriverne ma non ne ho scritto. Quando è scoppiato l'8 settembre, Gianni Brera è andato nell'aula magna e ha tenuto un discorso, come lui solo sapeva fare, per esortare i giovani, gli studenti, ad andare a combattere per la Repubblica Sociale Italiana. Lui ha collaborato alcuni mesi, fino a giugno del 44, col popolo repubblicano e anche successivamente ha ricordato con stima quello che era il direttore del popolo repubblicano allora, che poi è tornato a dirigere la provincia pavese naturalmente con un certo scandalo. Nel giugno del 44 è andato in Valle d'Ossola e cito le sue parole. Ha detto, volevano fucilarmi e avevano ragione, mi ha salvato Italo Pietra. Quando Italo Pietra è venuto a parlare in collegio Ghisieri, io mi sono permesso di toccare questo argomento. E lui ha risposto, ma non solo a me, a quelli che l'ascoltavano dicendo, Il primo comizio che ho fatto nel dopoguerra l'ho fatto a Vigevano e ho detto che ero lì per uccidere un uomo. Tutti l'hanno guardato con gli occhi fuori. Sì, dice, quell'uomo ero io e ha citato il suo nome di battaglia, perché io della resistenza di quegli anni non voglio più parlare. Nell'archivio dell'Università di Pavia c'è un documento che noi avevamo esposto. Io, sottoscritto Gianni Brera di Carlo, dichiaro di non appartenere alla razza ebraica. Quando Brera si è iscritto all'Università di Pavia ha dovuto fare questa dichiarazione. Ecco, io penso che tutte queste cose parlavano, perché io ho visto Brera una settimana prima che lui morisse, siamo stati a cena assieme e per un caso la notte del 19 alle 3 di notte ero sveglio, io ho sentito la radio che diceva Gianni Brera è morto a Codogno in un incidente automobilistico. Ecco, io penso che questo retroterra di Brera è sempre sotteso a tutto quello che lui farà, anche al suo amore per i principi della zolla, cioè per gli atleti che vengono da niente, per il povero che attraverso lo sport o attraverso atto si redime. Ecco, a me, e qui concludo, diceva che avevo due difetti, che tenevo per la Juve e che amo Manzoni, ma ti perdono, mi diceva. Grazie. La parola a Claudio Rinaldi, direttore della Gazzetta di Parma. Grazie. Io parlo volentieri di un libro che di prossima uscita, parliamo della collaborazione della quale ha accennato anche l'assessore Stefano Bruno Galli nel suo messaggio. È un libro che raccoglie gli articoli di Brera dei mondiali dell'82, l'occasione era ovviamente data dal trentesimo della morte di Brera, dal quarantesimo della più bella, credo, vittoria della storia dello sport, e non solo del calcio azzurro. Ed è stato molto interessante, oltre a selezionare gli articoli che ha scritto in larga parte per Repubblica, ma anche per Epoca, per la quale appunto inviava corrispondenze, che erano un po' scritte con la mano sinistra, soprattutto avevano il problema dei tempi, perché magari scriveva prima che giocassi una partita all'Italia, ma il giornale sarebbe uscito dopo. È stato interessante contestualizzare chi era già nebrato nel 1982, scrivendo alcune delle carte costruite alla Fondazione Mondadori. Possiede l'archiviera in 72 faldoni, Brera teneva di tutto, dalle agende, per esempio ho preso molti spunti, perché sulle agende segnava di tutto, da quanto doveva scrivere, alle richieste dell'ultima ora, non so, in un giorno durante i mondiali, ore 9, Epoca mi chiede 9 cartelle, delle quali si era scordato. Due ore dopo trasmetto le 9 cartelle, per dire anche dei tempi, come ha scritto una volta Gianni Mura, con un'immagine molto felice, suonava piatti d'alta cucina con ritmi da pizzeria, secondo me è una metafora che dà molto bene l'idea di chi era Brera quando scriveva questi ritmi. La cosa che mi ha molto colpito è che nell'82 Brera lascia molto polemicamente il giornale nuovo di Montanelli, dove era prodotto tra anni prima e dove non si è mai trovato bene. In particolare, questo presunto astronascente, che era Alfio Caruso, che lui non sopportava, i pezzi di Caruso finivano d'apertura, mentre quelli di Brera venivano messi di spalla. La cosa non era molto facilmente sopportata, perché Caruso era un trentenne, Brera nel 1982 era già arci famoso, e seguito, aveva una firma che è stato calcolato, pesava per 40.000 coppie, per dare l'idea. Per cui, insomma, la goccia che fece traboccare il vaso fu per una trasferta in Francia, a Parigi, per Francia Italia. Tra l'altro, all'andata, viaggiò insieme a Mario Sconcerti, cito volentieri questo aneddoto per ovvi motivi, e Sconcerti, chiacchierando, disse «Io sono appassionato di storia, e anzi, secondo studi recenti, i Longobardi non sarebbero un popolo del norma, un popolo slavo». Brera tirò due bestemmi e fece cambiare il discorso. Fatto sta che, a ritorno da Parigi, seccato per come erano stati trattati i suoi pezzi, scrive una lettera memorabile a Montanelli, durissima, nella quale ricordo di aver fatto pur qualcosa, di averlo diretto giornali e tenuto rubriche di una certa importanza, e dandole dimissioni. 28 febbraio. Nei tre giorni seguenti, sull'agenda, nota una raffica di corteggiamenti che gli arrivano. Barbiellini a Midei lo chiama per portarlo al Corriere. Piladele Buono gli dice, sono tutti appunto i che scrive Brera, Oreste chiede se posso dire a fattori di portarti la stampa, punto, commento, con fattori, punto di domanda, no puedo. Italo Cucci lo chiama il guerri sportivo, ma Brera nota, pagano troppo poco. Scalfari e Bocca fanno un corteggiamento insistente, Scalfari addirittura gli scrive una lettera di tre cartelle, bellissima, nella quale gli spiega come, perché Repubblica sia l'unica collocazione che deve prendere in considerazione. Guglielmo Zucconi lo vuole al giorno, ma sarebbe la quarta volta e quindi non ci torna. Alla fine sceglie Repubblica. Quando firma il contratto, Scalfari gli manda un'altra lettera che pubblicheremo in questo libro di benvenuto, nella quale si dice veramente entusiasta dell'ingaggio. Aperta parentesi, Repubblica all'epoca non usciva lunedì, oggi sembra una cosa pardossale, ma la notte dell'11 luglio Brera rischia quasi di infarto, anche per la sofferenza e l'umiliazione, non per te raccontare la vittoria contro la Germania, scrive il giorno dopo il famoso pezzo che comincia io triunfo e caro avventurato Italia, eccetera, eccetera. Allora, quando Brera esordisce, esce una sua fotografia in prima pagina per dire domani il primo pezzo di Brera, altra cosa che dà l'idea di un'importanza. E sconcerti, di nuovo, viene citato nell'agenda perché Brera dice, tutto orgoglioso, mi dice sconcerti che domani, con il mio pezzo d'esordio, uscirà per la prima volta dall'uscita di Repubblica in Edicolo, una foto di un calciatore in prima pagina, di nuovo per dire cos'era lo sport, per quanto sconcerti avesse già portato a Repubblica Emanuele Audizio e Gianni Mura e dopo Brera sarebbero arrivati anche Mario Fossati e Gianni Clerici. Tornando a sconcerti, visto che è stato ingaggiato Brera, sconcerti lo chiama e gli dice guardi che io sarei almeno teoricamente il suo caposervizio, commento lapidario di Brera, si ricordi che se vorrà andare d'accordo con me non dovrà mai più tirare fuori quella stronzata sul lungo bar di Slavia. Dopodiché, due giorni dopo, altra puntata sull'agenda, mi chiama sconcerti e che a Bologna mi chiama sconcerti e mi dice a Cattorino, Bologna e Firenze, se ricordo bene, Repubblica ha aumentato le vendite del 12-15% e anche questo dà l'idea di che cos'era Brera. Io credo che tra le tante cose che valga la pena di essere ricordate c'è l'autorevolezza, la popolarità e il seguito che aveva da parte di un numero infinito di lettori e non a caso, ancora oggi, che sono 30 anni che non c'è più, l'esercito, come si dice, di scienza Brera, questo invece è un copyright di Gianni Mura, è molto numeroso e tuttora continua a chiedersi chissà cosa scriverebbe, cosa avrebbe scritto per esempio della finale di ieri dei mondiali di calcio. Grazie. Grazie. Allora, tra poco arriveremo anche al capitolo dello sport praticato, però vogliamo proseguire con lo sport raccontato, giustamente con Andrea Maietti, scrittore e giornalista. Ho sentito già tante cose e vado così per come mi viene. L'amico è unico vero biografo di Brera e lui. Io sono considerato il suo biografo ufficiale perché avendo lui scritto una lettera quando ero giovane, dicendole che avrei voluto ereditare la Durlindana della sua scrittura, lui mi dispose io non ho brandi da regalare a nessuno, se ne forgi uno lei lavorando. Però sentendosi forse se è stato un po' duro con un giovane, mi aveva invitato a casa sua a Bosigio Parini sul lago di Pusiano e dopo un risotto preparato sotto i suoi ordini io grattugiavo solo il formaggio che secondo lui essendo di l'odio era il migliore del mondo e lui mi disse senta, un amico che si chiamava Oreste del Buono gli aveva promesso di fare un'antologia dei suoi arcimatti ma gli dice Oreste del Buono altro da fare è ammollato i pappafichi. Secondo me me lo devo fare lei e poi visto che siamo qua chiunque in Italia scriva anche le mezze calzette hanno un biografo Gominga da Wegelmi e mi hanno nato suo biografo ufficiale. Quanto invece ha citato prima Montanelli devo dire che il rapporto con Montanelli è curioso. Quando Giovanni se n'è andato io ho raccolto le testimonianze apparse sui giornali i vari necrologi quello di Montanelli è bellissimo Montanelli tra l'altro ricorda una sera in cui invita Brera dopo il suo primo intervento sul suo giornale che era dedicato a Meassa e che aveva appartito che più Meassa era il Folber e lui chiede ai suoi redattori ma chi ha fatto questo titolo? L'ha fatto Brera bene ne parlerò con lui lui parla con Brera e poi aggiunge Montanelli oltre a chiedere come mai avessi chiamato Folber invece che calcio nel titolo del sud di quel che aveva ricordato di Meassa e poi ho letto anche ma hai dato del braccio psichico dice Montanelli a Brera ma che vuol dire è Brera vedete che voi i toscani non sapete l'italiano? Ancora c'è un Brera secondo me nascosto lui chiamava diceva di avere molti inquilini dentro ma c'è uno secondo me poco frequentato credo io ma vivissimo che è l'inquidino che in qualche modo ha una sua religiosità molto profonda io ho indagato abbastanza questo aspetto qua e se devo dovessi dire io quando ancora mi chiamano nelle scuole perché tu leggi Brera io ricorderei a memoria quel che lo scrisse sul guerri sportivo nel 1963 quando voleva andarsene dall'Italia dal Bipiede Italia perché si era stancato e si programmava di andare in Argentina ma chiudo io con quel che dice Brera a memoria chiudo a memoria però non sapendo né andare a cavallo né avendo i denari per il viaggio sono felicemente restato in Padania preferisco restare qui come la pannocchia in una puzzanghera la pannocchia si strugge miseramente ma nel suo struggimento infiniti esseri si giovano consumarmi così a poco a poco e non essere inutile del tutto grazie tra poco è di Ottos perché dobbiamo parlare dello sport praticato anche ma prima ancora il collega giornalista di Sky Sport Nicola Roggero tocca a te dunque io tra i molti difetti della mia vita oltre al fatto di essere me stesso o quello di a differenza dei presenti non avere conosciuto Gianni Brera e ovviamente me ne dispiace tantissimo ho cominciato a conoscerlo per ragione di età negli anni 70 leggendo i suoi pezzi che io trattavo già all'epoca da bambino con il rispetto che si deve a romanzieri russi perché gli articoli di Brera non erano dei semplici articoli erano dei romanzi meravigliosi la descrizione di un gol di Brera poteva durare anche 40 o 50 righe e quindi per me Brera era soprattutto il giornalista di calcio perché all'epoca si dedicava essenzialmente al più importante sport italiano ho conosciuto soltanto dopo invece la straordinaria passione che Gianni Brera aveva per l'atletica leggera oltre che per il ciclismo lui straordinario amico di Fausto Coppi questa passione di Gianni Brera per l'atletica leggera secondo me emergeva anche quando lui parlava di calcio c'è un episodio piuttosto celebre del 1953 quando lui è direttore della Gazzetta dello Sport e si autoinvia a Wembley dove il 25 novembre l'Inghilterra che all'epoca non aveva mai perso in casa affronta l'Ungheria e prima della partita Gianni Brera chiede al commissario tecnico inglese Sir Walter Winterbotton come intende marcare il centravanti ungherese i deguti Winterbotton con quell'atteggiamento tipico che hanno gli inglesi che non si rendono conto che quando la mettono così per loro finisce male gli risponde il nostro centromediano e capitano signor Bill Wright seguirà i deguti fino a quando lo riterrà necessario il giorno dopo al primo minuto i deguti ha già segnato al 27esimo il punteggio è 4 a 1 per gli ungheresi e alla fine della partita solo l'atteggiamento cavalleresco dei magiari consente agli inglesi di finire con un più dignitoso 6 a 3 Gianni Brera in tribuna annota che l'Ungheria è una strepitosa squadra di mezzofondisti e non era casuale questo riferimento non solo per il fatto che l'Ungheria che ovviamente non ho mai visto giocare ma presumo fosse un po' come l'Olanda degli anni 70 una squadra che occupava meravigliosamente il campo grazie a una a una strepitosa evidentemente qualità atletica dei singoli lo dice perché lui l'Ungheria l'ha vista giocare l'anno prima quando nel 52 all'Olimpíde di Helsinki dove ovviamente Gianni Brera ha seguito principalmente le imprese di Zatopec o del nostro Dordoni ha visto appunto giocare gli ungheresi che guidati da Puskas e dai deguti e dalla fantastica squadra della Onved conquista la medaglia d'oro e quindi sa che la Onved non è soltanto un prodigio calcistico ma la Onved che è la squadra dell'esercito ungherese è una polisportiva che in quel momento lì ha nella sezione di atletica in particolare nel mezzo fondo il fiore all'occhiello l'allenatore si chiama Igloj Michali Igloj che attraverso una tecnica di allenamento chiamata l'interval training che lui sviluppa da altri che l'hanno scoperto già una ventina di anni prima ha portato soprattutto un meraviglioso atleta Sandor Iharos a demolire i primati del mondo dalla distanza dai 1500 fino ai 10.000 passando attraverso le 2 miglia e le 3 miglia e questo amore per l'atletica di Brera è secondo me alla base di una conoscenza del gesto tecnico assoluta che lui riesce poi a far trasmigare nel calcio dicevo prima un gol descritto da Brera e poteva durare anche 30-40 righe perché non solo ti faceva vedere esattamente com'era l'azione a chi soprattutto a quell'epoca l'azione non l'aveva vista ma riusciva perfettamente a spiegarti perché un atleta si era coordinato in una certa maniera aveva battuto il pallone con il destro aveva riuscito a appunto a concludere in maniera corretta eccetera eccetera fino poi a esagerare per cui per lui il calciatore doveva essere quello che era anche un grande atleta il suo modello di atleta chi era? Adolfo Consolini mio personale parere il più grande atleta della storia dell'atletica italiana e quindi per lui i giocatori di calcio dovevano in qualche modo somigliare a Consolini per cui Facchetti benissimo Riva benissimo Rivera malissimo era il re degli Abatini io ricordo Abatini erano appunto gli atleti i calciatori non particolarmente dotati di fisico che diciamo così Brera non amava io ricordo una famosa intervista televisiva dove inondati di una incredibile quantità di pintone di vino Nero Rocco provava a convincere il suo grande amico Gianni Brera che in realtà Rivera su Rivera si sbagliava e diceva Gianni ma Gianni Gianni Brera Gianni inteso come Rivera è un grande calciatore e Brera che non riusciva a capacitarci no è un grande mezzo giocatore perché va bene per quanto riguarda la fase offensiva molto meno bene per quella difensiva da lì poi nasce una polemica fra l'altro di livello culturale altissimo perché a sua volta Rivera è una persona di grande capacità di eloquio quindi la polemica Rivera Brera durerà tantissimi anni che viene però corretto una sera in cui ai famosi pranzi il cielo del giovedì mi sembra quella che organizzava Brera si presenta lo stesso Rivera e lì Brera prende atto che Rivera regge in maniera meravigliosa il rosso e allora lì da Abattino lo promuove e lo trasforma in Johannes Episcopus perché lui aveva questa grande passione anche per le definizioni latine io per esempio ricordo una definizione della squadra dell'Uruguay che è una terra che Brera amava molto dal punto di vista calcistico e che era time Uruguayos et male Ludentes e sono definizioni che secondo me soltanto Brera poteva dare venendo all'atletica leggera ripeto io credo che non ci sia nessuno che abbia si sia appropriato del gesto tecnico come Gianni Brera secondo me secondo me leggere Brera sull'atletica leggera era come leggere un clinic destinato agli allenatori con il vantaggio di regalare poi delle scenografie meravigliose vi faccio solo alcuni esempi un paio di esempi che ho tratto uno è uno dei record del mondo i tre record del mondo realizzati da Consolini ovviamente nel lancio del disco adesso naturalmente eccolo qua no 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 ci siamo ci siamo allora si era all'arena arrivasti al finale col disco bassissimo all'inferno gridai tuttavia per non so quale misterioso impatto il disco presa a salire planando come un aquilione impazzito distesa la parabola quasi reggendosi a un invisibile vento aereo poi l'incurvò appena cadendo di taglio ne saltellò spiattellando aveva esaurito in aria ogni forza di propulsione il lancio era riuscito perfetto a passi distesi cercò di valutarlo Peppone Tosi che era il suo grande amico rivale di Consolini oltre alla fettuccia dei 50 metri ne fece 5 e mezzo allora corse da te perché Brer si rivolge a Consolini in prima persona e ti ammollò una manata che per lui Portos uno dei mille soprannomi che Brer dedicava al campione dello sport era un abbraccio fraterno secondo me non si può dire meglio e capirete perché io ho sempre sognato nella vita facendo questo mestiere di scrivere un giorno una riga una sola riga bella come Brera e purtroppo questo sogno ancora non si è avverrato e temo che aspetterò in vano volevo poi leggervi la descrizione di Brera sempre su Consolini in occasione della sua vittoria alle Olimpiadi di Londra nel 1948 e confrontarla con il racconto di altri cronisti dell'epoca questo per dire che la distanza di Brera rispetto ai contemporanei era spaventosa un po' come quando si giudica un grande campione e si pensa sempre di fare dei paragoni con la storia adesso per esempio ovviamente da oggi si parla del famoso paragone a Maradona a Messi che sono ovviamente dei confronti impossibili perché ognuno può tranquillamente portare delle pezze d'appoggio e alla fine si ha ragione tutta la discussione diventa infinita ecco Gianni Brera aveva l'unica cosa di cui si può valutare un atleta è la grandezza rispetto al periodo in cui è stato protagonista e non c'è dubbio che Brera avesse un vantaggio spaventoso su tutti gli altri per esempio nella vittoria di Consolini questo è il suo racconto al secondo turno Consolini forza la macchina la pedana è già mal ridotta dalla pioggia e dalle zampate dei 12 concorrenti ma il campione della Pirelli si volge leggermente a sinistra per trovare terreno meno smosso e lancia con ottima scioltezza a 52 e 78 la folla non meno di 80 mila persone comincia ad allibire il premiato olimpionico di Giuseppe Tosi che era stato stabilito al turno precedente i lanci a vita molto breve e conclude poi quando la vittoria diventa ufficiale la conclusione è questa Consolini ha dunque vinto l'Olimpiade e Tosi secondo ma il gigantesco maresciallo di Corazzeri non si rassegna l'ultimo suo lancio è commovente di impegno e altresì ammirevole per la calma e lo stile la chiusura è perfetta il disco vola 51 e 78 Tosi si è dunque mostrato in tutto degno del secondo posto Adolfo Consolini e Raggiante abbraccia Oberweger che era il direttore tecnico della squadra italiana nonché altro grande ex di Scobolo abbraccia Tosi la sua gran giornata è venuta a realizzare il suo sogno non vedi Scobolo al mondo bisogna dirlo che più di lui si meritasse questa vittoria per dire la differenza con altri cronisti questo invece è il pezzo sempre della stessa della stessa giornata di un altro giornalista che comincia così uno squarcio d'azzurro si è aperto per noi nel grido cielo di Londra abbiamo vinto il primo titolo olimpionico abbiamo salutato con un tuffo al cuore il nostro tricolore sul pallone più alto abbiamo ascoltato con orgoglio le note dell'ino nazionale un po' strapazzato dalla banda dello stadio ma non per questo meno commovente e augurale ora è vero che nel 48 noi per carità avevamo le pezze al culo eravamo arrivati a Londra su invito degli inglesi avremmo dovuto essere esclusi da quell'olimpiadi in quanto paese belligeranti insieme a Germania e Giappone Germania e Giappone sono rimaste fuori noi probabilmente agli stessi inglesi abbiamo fatto talmente pena che ci hanno ammesso diciamo che c'era un filo di retorica ecco in questo in questo racconto però questo per dimostrarvi appunto qual è la differenza che c'era tra Brera e sue contemporanee come se nel 48 fosse acceso in pista un atleta con i tempi di allora sfidando però uno con i tempi degli anni 70-80 e soprattutto rileggendo le righe di Brera ci si rende conto di quanto sia spaventosamente senza tempo la sua scrittura cioè se uno prendesse il racconto di Brera sui lanci di Consolini potrebbe tranquillamente pubblicarlo su un giornale d'oggi e non ci accorgeremo che sono passati più di 70 anni grazie Nicola e di quanto sia anche televisiva perché tu come raccontavi lo raccontava talmente bene che alla fine sono immagini Eddie Otto ci ha messo sette ori al collo un bronzo all'olimpiadi e è stato due volte campione europeo prego sì io sono uno yogurt scaduto che faceva atletica nella seconda parte dell'ultimo secolo dello scorso millennio quindi perché va con le cose vanno collocate nel tempo sono laico infatti non mi occupo di attività religiosa in particolare del calcio che è l'unica vera religione considerata universale in questo in questo paese quindi sono in difficoltà perché non si può è difficile tenere lontano Giovan Brera dal calcio o dal ciclismo di cui finora non si è non si è parlato e tra l'altro sono sono un uno che ha ereditato nel senso che quando ho cominciato a fare gli ostacoli sono finito a Brescia nelle mani di Sandro Calvesi e ho dovuto imparare a conoscere tutti gli amici di Sandro Calvesi tutte le persone a cui Sandro voleva bene tutte le persone con cui lo legava una stima reciproca molto e tra queste uno dei principali era proprio Giovan Brera che quando parlava di me parlava di esatta follia non so esattamente o follemente di cosa si tratti ma faceva dei discorsi attorno all'esatta follia della tecnica degli ostacoli questo era un po' il era una persona assolutamente eccezionale fuori 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 dall'ordinario anche perché era uno il migliore ma di una serie di grandi giornalisti sportivi di cui noi abbiamo potuto godere nel nel dopoguerra che in un certo senso erano figli di un'epurazione imperfetta cioè erano stati mandati a scrivere dove non si scriveva di politica perché è stato è stato detto anche e quindi però erano talmente bravi che qualunque roba veniva proponevano e gli veniva proposto di commentare ne facevano un discorso un pezzo inventavano il linguaggio e di questi giornalisti di questo non stiamo a fare a parte che il piccolo è mancato sconcerti in questi giorni e viene in mente che lui scriveva sul piccolo Times così veniva veniva chiamato il secolo XIX è un ricordo personale io ho difficoltà a parlare di queste cose perché non riesco a distinguere il pubblico dal privato e le cose private mi mettono un po' in Gianni Brera voleva un bene immenso non solo a Sandro ma a Gabre la mia suocera la mamma di Liana che è qui era di casa era di famiglia tanto più che loro o meglio Sandro perché Gabre era nata a Imocchi vicino a Mostar non so bene lì la frontiera tra la Bosnia e la Herzegovina la Croazia un posto un po' strano ma Sandro era padano anche se la famiglia veniva da Roma perché aveva sposato di Letta Calvesi che aveva dei possedimenti e delle fattorie padane nella bassa Bresciana e quindi c'era anche un'assonanza di questo tipo una consonanza diciamo dato che Gianni Brera era così legato alla terra e a chi la lavorava e a chi e a tutto quello che più che lombardo o più che italiano sicuramente non slavo ma era padano nel senso giusto nel senso buono non voglio qui e una volta scrisse un pezzo dove paragonava mia moglie che non era ancora mia moglie e che mio suocero chiemeva fortemente che io sposassi per cui mi aveva fatto un discorso molto molto chiamandola la Vergine Atalanta inventando raccontando tutta una storia forzando incurvando lo spazio della della mitologia per per mandare un messaggio e il messaggio era che sostanzialmente avrei anche forse potuto meritarmela ma dovevo stare molto bravo ovviamente l'articolo non diceva questo perché però siccome c'è sempre qualcuno ha citato lei ha citato Joyce il rettore il prorettore ha citato Joyce e quindi queste letture multiple delle parole e delle frasi in cui c'è una roba che la capiscono tutti se la capiscono ma c'è anche un significato per pochi e magari c'è un messaggio per uno che era un po' una tecnica con cui si scrivevano gli editoriali che dovevano servire a c'era il discorso giusto corretto legato al momento politico della giornata della settimana del mese ma c'era anche in filigrana un altro un altro messaggio che era diretto a tre quattrocento persone in Italia parlo del Corriere della Sera parlo di poi più tardi di Repubblica e poi c'era però sempre anche qualcosa che c'erano solo pochissimi che potevano capire ma nessuno se ne accorgeva perché il discorso scorreva e quella volta Joan Brera fece un po' questa cosa qui e io ho scoperto parlando con Nicola che non sapeva che Joan Brera era bravissimo a disegnare non so se lo sappiate ogni tanto non faceva uno schizzo ma degli schizzi che erano come dire estremamente il tratto sintetico che però dove la parte contiene il tutto insomma era fanatico nel senso buono dell'atletica tu hai citato Berweger Berweger faceva il disco quindi era un amico di Brera aveva sposato una possidente pur essendo lui di Fiume una possidente di Castel San Giovanni quindi anche lui era diventato padano ma aveva avuto il record italiano dei 110 ostacoli del disco e del Decathlon a Berlino negli anni di Berlino 36 poi venne Consolini e non ce ne fu più per nessuno però Gioan Brera aveva questa passione per i lanci e per il mezzofondo perché tutte le le estate negli anni 50 d'estate quando nessuno usciva metteva il naso fuori dall'Italia lui d'estate andava al nord in Svezia dove c'era un grande tour di meeting che non esistono più oggi oggi c'è Oslo c'è tre o quattro cose che poi tra l'altro non è in Svezia ma però tutti i grandi lanciatori americani facevano venivano e tutti i grandi mezzofondisti andavano perché d'estate si allenavano a volo d'Alen da Gostarlander che era una specie di mago del mezzofondo riconosciuto all'epoca e Gioan Brera andava a fare le vacanze 20 giorni 3 settimane e un mese a girare tutte queste gare che erano tra le gare di paese e le gare di allenamento dei mezzofondisti ma dove si costruivano poi le premesse per le Olimpiadi per i campionati europei e quindi lui aveva questa conoscenza precisa della geometria del gesto dell'influenza del carattere sul gesto delle emozioni sul carattere nel momento in cui si trattava di esprimere grandi prestazioni e aveva soprattutto questi amici come Sandro Calvesi il papà di Liana che era uno che vedeva al volo capiva subito nel gesto che cosa era fondamentale che cosa era orpello spendibile che non gli dicevano c'è un ragazzo a Cremona che fa la risposta era Ardommel andiamo a vederlo però riusciva subito a capire che cosa nel gesto atletico non solo sicuramente negli ostacoli anche se lì è stato che cosa era fondamentale e che cosa invece era normale che cosa era secondario e che cosa non aveva influenza sulla prestazione tutti invece si perdevano sul fotografia gesto perfetto devo farlo uguale la fotografia non è mai esistita perché quando c'è una fotografia di un gesto atletico un attimo dopo la situazione era già cambiata e un attimo prima era diversa quindi quel gesto scollegato dalla dinamica non ha e questi concetti che per lui non erano concetti erano cose normali cose naturali era il modo di respirare la prestazione per Brera erano entrati a far parte del suo DNA ammesso che il DNA sia modificabile cosa che la Pfizer sostiene ma che molti altri invece ritengono che non sia vero e li abbiamo tutti voluto bene io poi non sono un giornalista quindi nel senso che ci ho messo due anni per uscire dall'ordine io sono entrato nell'ordine dei giornalisti nel 67 credo correvo ancora e come hanno introdotto recentemente tutta una roba in cui bisogna fare dei corsi per poter dimostrare di essere ancora io ho presentato le dimissioni due anni per uscire no perché entrare è difficile ma uscire è ancora più difficile io non sono un ordinistico non sono un grande stimatore degli ordini professionali anzi avevo firmato anche il referendum per la quello che praticamente ha segnato il passaggio di pannella dal successo al meno successo e quindi io non posso parlare bene come parlate voi parlare bene come parla poi Nicola è abituato a no perché bisogna riempire lo spazio però sicuramente è una persona a cui per motivi familiari per motivi abbiamo tutti voluto molto bene e che è inutile che io dica quanto fosse bravo perché è talmente evidente che diciamo che per come parlo io voi fate bella figura ecco questo questo è importante poi se vuoi ti faccio vedere il ritratto di Liana fatto da Brera nel 1954 poi Liana è qui voi potete subito vedere se è lei o no no e quando la gazzetta era in via Vittor Pisani in via non so se vi ricordate che la gazzetta dello sport era eh via Galilei no 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 scusate via Vittor Pisani è quella che va giù no via Galilei fate lasciate lasciatemi sbagliare e un giorno vanno mia suocera cioè Gabre doveva andare a portare dei pezzi che aveva scritto a a Brera che era il direttore della gazzetta il vice direttore era già Maria Dossena e si era portata dietro la bambina di dieci anni e allora Giovanna ha fatto un ritratto una carta che adesso non è più rosa la carta di appunti della gazzetta che era rosa in redazione è diventata gialla è diventata di un colore indefinibile ma si sa che la carta non è non è eterna e non tornivano nelle redazioni il papiro per prendere gli appunti le costa troppo caro e quindi aveva era un come come nel suo campo mio Sandro mio suocero erano personaggi rinascimentali che sapevano tutto quello che c'era da sapere in quell'epoca di quello che facevano che avevano tutto che avevano l'insieme del e lavoravano Briel era un po' più ma lavoravano allenavano commentavano giudicavano come in una specie di grande bottega rinascimentale in cui la gente imparava solo perché vedeva sentiva capiva chiedeva ogni tanto stava a guardare tranquillo e quindi questo è io l'ho ereditato perché ho avuto dei grandi amici che erano amici suoi e quindi ripeto Sandro Gabre come ho ereditato altre persone che facevano che andavano a fare queste mangiate epiche che sono rimaste nella andavano al Birch con Ottavio Missoni andava c'era tutta una serie di giocavano a carte perché poi dell'osteria facevano parte anche le carte eccetera non so cosa dirvi di più ma gli volevo molto bene grazie e comunque per la sua frase iniziale yogurt scaduto una delle prime cose che ti insegnano ti correggono da giornalista e lo saprà quando hai detto lo yogurt è scaduto un olimpionico un campione non è mai un ex lo rimane quindi non scade niente scade meno perché lo yogurt è una di quelle robe che si può mangiare anche se è scaduto delle volte è anche più yogurt è giusto è giusto Fabio Monti avete parlato molto di Gianni Brera e l'atletica perché Gianni Brera comincia con l'atletica e comincia da questa frase che spiega perché era così bravo nel raccontare l'atletica ho sopportato per due anni i sarcasmi degli atleti ho studiato atletica come per una tesi di laurea ero il cronista da primi ignaro ma sufficientemente umile per ascoltare chiunque mi potesse insegnare qualcosa venivo dal calcio dal pugilato e dal paracadutismo è quasi ovvio che io ricordi con profonda gratitudine tutti coloro che mi hanno insegnato a capire lo sport più sinceramente umano e dunque più ricco di fascino era il 1945 Brera eredita la rubrica atletica della gazzetta dello sport il suo primo cimento è quello di andare ai campionati europei di Oslo del 1946 ci va sull'aereo e si salva per miracolo perché quell'aereo conosce l'inferno ci mettono due giorni ad arrivare e lui dirà e lui si accorge subito che è un disastro sebbene l'aereo sia stato quello che ha portato Umberto II a Cascais dopo la proclamazione della Repubblica e lui comincia così questo suo pezzo per la gazzetta prima di partire datato aeroporto di Linate 18 agosto 1946 tocco ferro ma quando la carcassa di questo aereo cui auguro santamente di morire di vecchiaia poserà derelitta in un museo delle antichità aeronautiche la sportivissima gioventù italiana si recherà in pellegrinaggio a visitarla e la sfiorerà con rispetto ne staccherà piccole schegge da tenere per ricordo come così facevano un tempo i romei con i vestiti e le suppellettili dei santi e quindi ci aveva visto abbastanza bene la passione di Brera per l'atletica non finirà mai in alcuni momenti la seguirà da vicino da direttore anche della gazzetta e l'atletica gli costerà anche la direzione della gazzetta anche se prima nel 1952 ci fu una memorabile sua intervista che fece a Pavo Nurmi questo campione meraviglioso famosissimo e la fece in latino perché lui era a Helsinki per parlare per seguire le olimpiadi e va a trovare Nurmi nel suo negozio Nurmi tra l'altro è una persona molto chiusa un carattere spinoso difficile a frequentare e lo saluta in latino allora siccome Nurmi non parlava l'inglese ebrea non parlava il finlandese mi sembra anche il minimo decidono di fare questa intervista in latino e la fanno poi nel 1954 da direttore della gazzetta questo sovietico che si chiamava Vladimir Kuz batte il privato del mondo dei 5000 lui giustamente mette questo questo articolo in prima pagina eccetera e quindi viene poi convocato tra quattro giorni dopo dai proprietari della gazzetta che lo accusano di filo comunismo perché aveva messo Kuz aveva così dato così tanto grande richiamo a Kuz in prima pagina allora lui niente cerca di di difendersi ma senza grande passione gli ricorda che l'equip aveva fatto il titolone di prima pagina proprio su questa impresa il proprietario quasi si scusa però lui tre giorni dopo sbatte la porta e se ne va e lascia la direzione della gazzetta c'è un libro che racconta moltissimo di Brera e l'Atletica che è la Battillo Berruti fatto da Sergio Giuntini che però per motivi di spazio non raccoglie tutto quanto Brera ha scritto sull'Atletica che sarà sempre la sua grande passione anche perché lui aveva avuto la fortuna di formarsi con personaggi meravigliosi il professor Calvesi che ha avuto la fortuna di conoscere era uno di questi ma si potrebbe paragonare di Missoni che era arrivato sesto alle Olimpiadi nel 48 e tornando a casa il padre gli disse ciò ti gaffa ultimo ma come dice ero nella finale dell'Olimpiadi sì ma ti gaffa ultimo perché era arrivato sesto insomma questi erano i personaggi per non parlare di Oberweger e di tanti altri non ci sono tutti i pezzi ovviamente che Brera ha dedicato all'Atletica però per esempio ce n'è uno meraviglioso che si potrebbe e si dovrebbe recuperare che è quello sugli 800 metri di Fiasconaro i campionati europei del 1974 Fiasconaro che era primatista del mondo e si presenta come tale aveva i tendini a pezzi era acciaccato aveva un sacco di guai muscolari però scappa via e resiste fino a 700 metri fino a 100 metri dal traguardo per 700 metri resiste e Brera fa tutto questo pezzo meraviglioso che cominciava con è morto il re vive il re e racconta questa gara come se veramente l'avesse interpretata e l'avesse corsa lui voglio dire soltanto per chiudere a Ottoz voglio grazie ma scusa perché qui adesso lo troveremo perché spiega perché l'esatta follia ecco dice da ragazzino Ottoz faceva questo è una serie di articoli che lui aveva fatto per la rivista atletica che era la rivista della federazione che era rinata con un nuovo formato eccetera e che lui dedica compreso i disegni e i ritratti fatti a mano da Brera lui dedica a vari personaggi tra cui Berruti Ottolina Pamic Lappini e anche Ottoz dice da ragazzino dopo aver spiegato perché si chiama Eddie perché dice il nome di Eddie non è nei calendari non vi fu mai un santo chiamato Eddie questo nome portava il soldato americano che tenne a battesimo il figlio di sua cognata francese e di suo cognato italiano di Val d'Aosta il soldato americano era sbarcato da pochi giorni in Francia a Mandelieu presso Canna aveva subito trovato da far qualcosa il nipotino era biondo è bello e va avanti eccetera e poi spiega da ragazzino Ottoz faceva alpinismo o montagne Val d'Otten invoca una canzone a lui cara le montagne sono imponenti barriere tra noi e l'infinito mi è dunque facile pensare che maturando alla vita Ottoz abbia sintetizzato e soddisfatto una sua voglia innata di scavalcare gli immensi ostacoli di roccia tra i quali era cresciuto lui dice di aver seguito l'austuzia cioè la ragione nel dare sfogo a un istinto ai campionati studenteschi nessuno valeva granché negli ostacoli per eccellere in corsa non era che da scegliere quelli e lui infatti li scelse e vinse la corsa esatta favorisce un'apparente follia né più né meno della matematica è una scoperta mia di cui sono fiero come neanche si trattasse di pura strazione geometrico pedatoria l'atleta che sceglie gli ostacoli si vota alla corsa esatta e manifesta via via la propria insofferente mattana per le cose normali della vita e con questo spero di esservi meritato l'autografo da Ottoz che aspetto dal 1969 grazie 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 Fabio Monti del Corriere della Sera lo porto io Roberto Beccantini la stampa sia questo quello che funziona buonasera quando si parla di un genio si rischia sempre di passare da Cicisbeo non solo da Abatino però in questo caso è un pericolo che devo correre perché Brera è Brera io l'ho conosciuto prima leggendolo da Bologna ragazzo e devo dire che le prime volte ci voleva il vocabolario non soltanto le prime volte però è un esistizio questo che poi mi ha insegnato a ripetere anche in età adulta perché me lo sono sempre portato allo stadio per le partite per qualsiasi tipo di manifestazione calcio basket atletica eccetera come se fosse il battitore libero della mia della mia serata della mia partita battitore libero che fra parentesi appartiene a quel lessico che Brera ha inventato e ci ha consegnato e questo è veramente uno dei tanti punti a suo favore ce ne sono ce ne sono troppi comunque rispetto al giornalismo di oggi quelli come erano quelli gli anni 70 gli anni 80 come li definiva Giovanni Arpino che fu prima amico poi nemico poi di nuovo amico di Gianni anni di piombo per fortuna nelle tipografie per sfortuna nel paese perché e pezzi lunghissimi ma che sembravano sempre come pezzi che avresti voluto scrivere tu anche se non avevi le fondamenta non avevi la cultura allora si alzava la voce degli argomenti il tono degli argomenti non il tono della voce e la passione era sempre orientata dalla cultura dalla competenza non soltanto dal fanatismo Brera aveva una padronanza del linguaggio che non sto a ripetere è già stata giustamente cantata da tutti e soprattutto una cosa che in questo paese non sempre viene colta e rispettata e apprezzata non è che Gianni Brera quando scriveva avesse sempre ragione sulle tesi che sosteneva io parlo soprattutto di calcio però le esponeva in maniera tale che anche il più normale degli avversari avrebbe dovuto rendergli l'onore della Olivetti 22 non soltanto delle armi perché era era troppo bravo per non essere rispettato anche dagli avversari per esempio sul Milan di Arrigo Sacchi prese una cantonata poi però seppe alla sua maniera con la sua classe uscirne fuori Nicola e Fabio hanno già ricordato appunto il suo brani della sua inarrivabile scrittura il lessico ripeto che ci ha lasciato in eredità è molto importante viene citato ogni giorno anche senza citare l'autore perché sembra quasi una forma di piageria però bisognava ogni io stesso molte volte mi rifaccio a lui in un pezzo che uscirà Derby d'Italia riferito questa volta a Inter Milan subito una parentesi per ricordare che viceversa per Brer il Derby d'Italia sarebbe storicamente Juventus-Inter ecco a Gianni e Brer mi legano due episodi uno dicembre dell'85 la Juventus si appresta a disputare la finale di Coppa Intercontentale a Tokyo con l'Argentino Juniors ai primi del mese mi squilla il telefono di casa e lui allora io sull'attenti come un soldato non me ne vergogno è rosso ma lui non poteva vedermi avevo già dunque 35 anni e mi chiede notizie esclusivamente tattiche sugli avversari della Juve io mi sforzo di dargliene nella maniera più approfondita e tecnologica possibile lui mi ringrazia bene arriva la partita e poi sotto Natale mi arriva una cassa di vini dell'oltrepopavese senza biglietto di accompagnamento lento come sono non collego subito quando viceversa mi scatta dopo giorni dopo settimane temo dopo mesi la scintilla lo vado lo chiavo e lo ringrazio di cuore io ho avuto la fortuna di lavorare vicino a Brera ma mai nei suoi giornali e la prima volta che lo incontrai fu in un luogo utile ma non elegante in un gabinetto di un palazzo dello sport di una città in cui si disputava un'olimpiade durante l'intervallo di una partita di basket che l'Italia contro la Jugoslava stava vincendo di 16 punti fu un onore per me per la mia vescica ma lo vedi molto molto preoccupato già perché lui sapeva mentre io ero un po' azimato tutto arzillo 16 punti maestro qui dottore professore qui calma Beccantini calma vinse la Jugoslavia di 1 grazie Claudio Gregori giornalista delegati dello sport è lì ma credo funzioni anche quello scelga pure lei non funziona ok allora con Claudio Rinaldi noi abbiamo onorato Brera andando alla pacciada quindi siamo abbastanza appesantiti io ho lavorato per 30 anni alla gazzetta dello sport ho studiato tutto il percorso di Brera qui si è parlato molto di atletica Otozza ha detto che amava Brera è vero perché c'era al funerale di Brera era uno dei pochi grandi atleti presenti c'era lui c'era Capello il gran visiaco era il soprannome che gli aveva dato perché Capello veniva da Pieris che è nella Bisia Caria cioè tra il Timavo e l'Isonzo quella terra lì e con Pelagaldi Pelagaldi che era un giocatore del Milan generoso qua un giocatore pavese che lui chiamava amichevolmente Ambrose e poi con ironia lo chiamava Pelè ecco non si è parlato del ciclismo allora dico una cosa sul ciclismo e poi vorrei parlare di come Brera inventava i suoi neologismi allora il ciclismo nel 49 Brera viene nominato corrispondente speciale da Parigi della Gazzetta è un ruolo che non c'era mai cioè corrispondente non solo corrispondente speciale in aprile c'è la Parigi Roubaix con Fausto Coppi e allora la Gazzetta chiama Brera guarda che devi andare alla Parigi Roubaix e Brera esordisce alla Parigi Roubaix con i due Coppi Fausto Coppi e Cerse Coppi ovviamente sta nel velodromo e ci sono tre uomini in fuga e succede l'incredibile c'era una folla così enorme che i tre non riescono a centrare l'ingresso del velodromo finiscono dietro le tribune e con la bici in spalla ciascuno dei tre cerca di guadagnare il traguardo il primo che lo raggiunge è il francese Maé che viene considerato vincitore poi arriva il gruppetto degli inseguitori dieci corridori tra cui Cerse Coppi Cerse Coppi vince questa volata i commissari rilevano che i tre di testa non avevano compiuto l'esatto percorso della Parigi Roubaix e quindi il vincitore diventa Cerse Coppi Brera è lì c'è anche una foto proprio che ci vede il giovane Brera dietro Coppi ed è lui a dire a Fausto Coppi che a vincere era stato il suo fratello il rapporto tra Fausto Coppi e Cerse era un rapporto bellissimo perché vivevano nella stessa stanza nella vecchia casa di Castellania e Cerse era il contrario di Fausto Fausto era chiuso Per Cerse era un donnaiolo era un vivere era uno brillante era uno che faceva gli scherzi e i due si completavano e si volevano bene così nasce il Brera ciclista subito dopo Coppi e Barta li vanno al tour e Brera è corrispondente speciale da Parigi e la gazzetta dice guarda che devi seguire il tour e lì c'è il decollo di Brera perché Brera aveva una cultura eccezionale conosceva benissimo la Francia quando era partigiano nello zaino aveva le opere di Molière su cui poi finita la guerra ha scritto un libro e quindi parlava bene la lingua aveva una cultura grande conosceva benissimo la natura sapere distinguere gli alberi le erbe i venti e quindi ha fatto dei pezzi memorabili io penso che siano i migliori pezzi di Brera leggeteli al tour del 49 comunque sia la gazzetta dello sport supera le 700.000 coppie e a dicembre Brera viene nominato direttore della gazzetta dello sport a 30 anni è direttore della gazzetta e lo fa in una maniera grandiosa quell'anno lì al tour vince il giro d'Italia uno svizzero Koblet è il primo straniero a vincere il giro è interessantissimo leggere le cronache di tutti gli altri giornali da 5 o 6 giorni gli altri giornali scrivevano che bisognava fare l'alleanza per far vincere Bartali che era secondo in classifica cioè il concetto era non passa allo straniero Koblet invece resiste vince il giro e Brera quel giorno scrive un fondo eccezionale in prima pagina il titolo è nello sport non ci sono stranieri è un fondo che è valido ancora oggi parliamo di neologismi allora Brera inventava neologismi in maniera magica li inventava sostituendo una vocale sostituendo una lettera per esempio conterraneo lui sostituiva una lettera e diventava conterroneo cioè conterraneo dei terroni vagabondo sostituiva una lettera e costruiva vagabondo che è un neologismo bellissimo perché è il vagabondo che vaga per tutto il mondo praticamente ampli allo spazio del vagabondo e avanti così era una miniera incredibile vi risparmio i neologismi del calcio che comunque conosco molto bene cioè per dire Libero Libero lo ha fatto nel febbraio del 50 la Juventus in quel campionato vinse il campionato però nella partita interna col Milan perse 7 a 1 e Prera ha scritto un articolo dicendo che bisogna mettere un giocatore libero vicino al centro mediano per evitare queste cose poi il giocatore libero diventò nei pezzi successivi il terzino libero nel 53 il terzino libero è diventato libero sostantivo e poi il libero è stato diciamo ufficializzato a livello mondiale nei mondiali del 54 nella semifinale Ungheria Germania usò proprio questo neologismo e il giorno dopo nel fondo di prima pagina ribadì il concetto e il libero divenne in tutto parliamo di Abattino l'Abatino come soprannome è Rivera tutti lo sanno però il primo Abattino è Giorgio Albani un corridore che nel giro d'Italia del 1952 vinse la prima tappa ci arrivava a Bologna battendo in volata Magni e Coppi e vestendo la maglia rosa era un giovane filiforme era proprio l'Abatino e lui gli ammollò questo Abattino il secondo Abattino fu Beruti nel giorno della sua grandissima vittoria olimpica con il record del mondo 20 secondi e 5 il terzo Abattino fu Rivera solo nel 63 però molti anni dopo e poi Abattino divenne perfino Owens Abattino e poi gli azzurri di Fabri i rossoneri di Lidl e via allora Brera ha inventato dei neologismi eccezionali che vengono sottovalutati perché ad esempio uno legge posaglutei posaglutei per Brera è il tifoso il tifoso che sta seduto che non fa lo sport praticato è un termine irridente incisivo ed è un termine che è bello e può stare alla pari di un di un altro termine di Gà inventato da Gà che è cul seduto Gadda cul seduto Brera posaglutei ecco in questa costruzione adesso non voglio essere troppo lungo quindi stringo un po' studiando Brera la cosa assolutamente eccezionale che si nota è la straordinaria varietà del lessico di Brera per esempio nello scrivere una frase c'è un avverbio che è un avverbio un po' pesante che la pesantisce è l'avverbio che finisce in mente tipo fortunatamente è lungo bisogna evitarlo io ne ho contati un po' e sono arrivato a 755 questo vi dà l'idea di quale è esaminando solo uno dei tanti avverbi di Brera di quanto vasto poteva essere il linguaggio di Brera perché lui dalla parola cane tirava fuori l'aggettivo cagnesco dalla parola cagnesco no cagnolesco dall'aggettivo cagnolesco tirava fuori l'avverbio cagnolescamente che ovviamente non c'è sul vocabolario quindi era una creazione incredibile e poi era sempre illuminato un po' dal sarcasmo è stato nominato Winterbotton commissario tecnico inglese cioè uno di fronte al quale ci si doveva levare il cappello lui come lo chiama traduce il suo linguaggio Winterbottom sedere d'inverno e fa peggio con Sir Q campione olimpico e campione del mondo dal francese Sir che vuol dire stringere e dall'universale Q e lo chiama proprio stringi culo nei pezzi cioè questo è Brera cioè Brera è uno scrittore uno scrittore grande cosciente di essere grande e per cui si permette di trattare male per esempio Manzoni Manzoni è una ciolla una ciolla di genio però una ciolla e avanti così ma non solo Manzoni li tratta tutti mali c'è Pasolini che sul giorno cioè sul suo giornale scrive un pezzo eccezionale un pezzo geniale proprio degno di Pasolini ed era questo il calcio è un linguaggio è un sistema di cifre cioè un linguaggio i calciatori sono i cifratori di questo linguaggio gli spettatori sono i decifratori e poi fa degli esempi Corso è un poeta modi Rivera non mi ricordo cos'era qua me li sono appuntati vediamo Rivera è un prosatore zevirista Riva è un poeta realista il gol è il momento supremo il dribbling è poesia la geometria prosa bellissimo allora Pasolini muore sappiamo com'è morto io devo dire la verità ho giocato a calcio con Pasolini nel 75 e avevo il numero 4 e marcavo proprio Pasolini che aveva il 10 quindi l'ho conosciuto proprio da vicino nel campo dal Flaminio con l'idol in panchina che mi ha raccomandato Claudio lascialo giocare e infatti lo marcavo a 10 metri e poche settimane dopo fu assassinato e Pasolini adesso non parliamo di Pasolini comunque era una persona geniale e ecco perché ho tirato fuori questo ecco allora passano 11 anni e per rispondere a un lettore Brera distrugge Pasolini la premessa che ho detto è che questo pezzo geniale è uscito sul giornale di Brera e distrugge Pasolini dicendo che intanto distrugge l'uomo Pasolini perché dice che era disastrosamente diverso incomincia così e che poi al vederlo mi è venuto in mente il un invertito usa questa parola strozzato dall'amante così distrugge l'uomo e poi distrugge l'idea distrugge questo pezzo geniale e conclude dicendo Pasolini è un damo delle lettere che se fosse stato nel suo piccolo oratorio si sarebbe risparmiato di dire queste fregnacce ecco Brera era così e nella scrittura noi qua parliamo sempre bene di Brera però nel valutarlo pienamente bisogna tener conto che Brera non conosceva i toni gentili i toni equilibrati prendeva sempre posizione e tante volte erano posizioni difficilmente condivisibili perché nei suoi pezzi lui mirava a colpire il lettore e quindi il lettore alla fine del pezzo o lo adorava o lo 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 detestava va bene ecco vabbè finiamo qua altrimenti andiamo lui grazie Paolo Ghisoni tocca a te chiudere quale onore innanzitutto finiamo in gloria e come dice Rino Tommasi anche quando i nani fanno ombra siamo veramente al tramonto io sono sempre stato molto restio a parlare di Brera perché lo conosco ho parlato anche dei documenti familiari devo ringraziare Nicola Renata e anche Roberta perché se sono qua a raccontarvi tra amici degli spaccati di tre fasi parto da Claudio effettivamente era insopportabile per certi versi io ho avuto la sfortuna di essere adolescente non frequentavo via cesariano non frequentavo il lago e però frequentavo Monte Rosso al mare perché perché eravamo ragazzini io e questo cugino e noi chiaramente vivevamo la vita del mare quindi per noi alla sera alle otto era a tempo di cena e Brera a tempo di otto iniziava forse a cominciare a pensare cosa doveva fare il giorno dopo e quindi noi dopo cena picco glicemico cominciavamo a girare per casa chiaramente facendo un po' di rumore non vi dico chiaramente la reazione ma la capite abbastanza facilmente in maniera piuttosto burbara allora basta entrava in gioco Rina e poi una figura mitologica che non è stata citata che è Eta tutti la conoscono insomma Eta soprannominata da noi Eta Beta perché aveva per tutti i ragazzini qualsiasi medicina per noi c'era la caramella della soda da darci per farci stare tranquilli e quindi Gianni diciamo a fine 18 anni mi ha francamente detestato come un orpello che in casa veniva a disturbarlo durante la permanenza estiva che era diciamo comunque momento di grande produzione giornalistica e di scrittura però il fuso orario era di Miami parliamoci chiaro cioè lui si svegliava a mezzogiorno iniziava probabilmente verso le due o le tre a 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 di questo fuso orario notturno e arriviamo all'età 18-19 anni finisco la maturità e racconto questo episodio che lui nei libri parla del famoso vis che deve per diventare tale attraversare il po' a nuoto chiaramente io questo tipo di episodio non l'ho potuto raccontare però ho avuto l'onore una sera per una defezione all'ultima ora di giocare a scopa quindi mio padre mi prende come compagno dall'altra parte credo vittorio ronzoni e lui e iniziamo a giocare devo dire che nonostante fosse un primavera me la cavicchio arriviamo al momento della verità partita piuttosto tirata io do le carte lui mi guarda e mi dice gisoncino sai che qui vale la legge adesso vi posso dire che tichella fisichella io non sapevo chi fosse sostanzialmente mi prende talmente tanto cioè siamo qua come se arrivi sul traguardo e lui ti mette pressione e io comincio a distribuire queste carte e cosa faccio l'errore più classico 10 10 11 9 eccolo qua la legge di chetichello è questa 4 a 0 e a casa quindi anche il modo che aveva molte volte di metterti alla prova di darti pressione se verificata in quel caso 4 a 0 chiaramente abbiamo perso io e mio padre quella partita poi salto alla laurea perché poi chiaramente il rapporto è diventato un pochettino più mi viene a dire maturo quindi riuscivo anch'io a decifrare dopo tre letture quello che lui in qualche modo vergava e arriviamo al 1992 che guarda caso è l'anno della sua scomparsa e anche l'anno della mia tesi in questa simpatica università peraltro una tesi sullo sport come strumento di emancipazione per i paesi africani attraverso le pagine del Corriere della Sera quindi ci siamo e alla fine ci fu l'intervista a lui e ci sono due tratti che dimostrano l'immortalità la contemporaneità però adesso con Nicola abbiamo forse anche capito che quello che diceva Eddie è più consono sarebbe stato più consono alla serata il fatto di averlo perimetrato in maniera migliore sarà per la prossima volta per i 40 anni speriamo allora io chiaramente teorizzavo il fatto che ci fosse un po' di eravamo dopo Italia 90 quindi Carmen aveva fatto quarti di finale con Inghilterra peraltro abbastanza scippata e gli chiesi a suo parere chiaramente bisogna dargli del lei le prospettive per il calcio africano sono buone penso proprio di sì se riusciranno ad affinarsi ulteriormente a livello tecnico e culturale gli africani potranno affiancare se non superare gli esponenti delle tradizionali forze calcistiche mondiali e a dire a vedere quello che è successo con il Marocco che è arrivato in semifinale ha battuto Belgio Portogallo mi sembra che ci avesse già visto lungo quello che però mi piace anche ricordare Elbre era piuttosto scomodo vedendo quello che è successo in Qatar dal punto di vista diciamo dell'elargire il qualcosa per arrivare al fine gli chiesi proprio se ci poteva essere un cambiamento anche di concezione dal punto di vista della nostra categoria e mi dice il parlarne bene o il mostrarne un'immagine migliore non è affatto una convinzione reale di noi giornalisti credo sia dovuto piuttosto a ragioni di calcolo egoistico in genere le squadre africane vengono seguite da colleghi della stampa che difenderei di seconda mano tanto per tornare a quello che dice Roberto quest'ultimi in cambio di qualche citazione di favore e meno male che erano citazioni ricevono inviti e viaggi gratis a spese del paese gratificato dalle loro parole si tratta per lo più di arrampicatori disposti a compromessi piuttosto che di giornalisti obiettivi e con questo chiudo perché con quello che è successo in Qatar credo che 30 anni dopo ci aveva già visto lontano grazie grazie Paolo grazie a tutti se volete perché io vedo ci sono delle testimonianze in foto ci sono degli scritti scritti a mano articoli di giornale avvicinarvi e vedere io vi ringrazio da quello che è uscito stasera si potrebbe scrivere un libro da qualsiasi mano verrebbe fuori un libro meraviglioso grazie 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 non c'è nessun problema grazie grazie grazie